Sì Sì, aveva un minuto e trenta. Cioè, uno B5 con un minuto e trenta li ho già visti. Ne ho già fatti anche. C'è anche una main door. Guarda, c'è una scelta che uno muore. Guarda, 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 guarda. come un po' di pari smogli dove sono? Sì ma... Ma what? Ma dove sopra? Ma dove sopra? Non hanno rinforzato qua? Si è involto, va che puo ciao Sì! 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 Oh mio Dio, non lo vedevo Il Ging è troppo forte Oh, trappareni Verzi quelli, where is, where is, where is Where is Infatti mi hai salvato Kittandro Sennò sarai morto Eh già Eh già No more We need to locate a bomb Sennò 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 Il Ging Non vedo niente Ok Non vedo niente Sennò Isastronomi Ah, lol No, ma cos'hai le cuffie al contrario? No Hai le cuffie al contrario o a caso? Siege Comunque vedi la potenza di Yink Non devi dronare, vai tra Cioè con quattro candela Cioè praticamente non devi risparmiarle Cioè le usi invece di dronare Un drone overpower Un drone che spara Ma Jackal No, Jackal stava andando in giro a cercare le tracce di Kaid Che boh aveva senso di per sé Boh, quelle belle Boh, però almeno va in panico Kaid Va e inizia a correre in giro O non poteva più plantare Cioè non poteva più difezzare Secure l'area, keep the bombs protected No, no, no No, no No, no No, no No, no Le bug peggiore Ma te ne di proprio non capivo il timing peggiore per girarti Ero tipo, di ma cos'hai sentito? Oh, finalmente una partita di questa vicenda normale. Vale, non ho anche l'ultimo non l'ho fatto appunto Ma, tutti non si spostano Ma, dove è morto? Ma, dove è morto? Cosa? Guarda, guarda, guarda C'è ancora 90 Non posso ringerci 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 Cosa è sotto Non posso ringerci Non c'è Non c'è L'Emmao 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 Almeno ce n'è uno Facendo Vicente Us E' la mia nuova trovata A che lo odiavo Non lo sapevo usare A che Is stonks E' un po' E' un po' Derea C'è l' Un po' C'è un'accento francese Eeeh, c'è un'accento di carico Uuuu, c'è un'accento C'è un'accento di brone Be advised, Op 4 has found a bomb 5 seconds left Op 4 has located a bomb Heartbeat sensor activated I got some life I got some life But let's just appear so that I got some machines Sensor activated Sì, c'è un po' di più. No, non ho scelto 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 Non posso fare il C4 Stai a giocco C'è qualcuno Non ho scelto Astro Is dead? Astro dead? One's in kitchen On bathroom one kitchen On statue 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 Oh no, Jiger, Jiger Going up astronomy stairs He's going up astronomy stairs He's going to red stairs Red, red Ok, ok, sinistra Prefaira, prefaira Si, si, si 9, 9 Don't reach him, please How is this precarious yings? You can see that he's not using yings Op 4 eliminated, mission successful No